I commissari straordinari Meloni, Polito e Giordano, che dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiosa amministrano l'azienda sanitaria provinciale, intervengono sulle gravissime criticità che stanno portando alla chiusura di ortopedia dell'ospedale Spocchi di Locri. E lo fanno per precisare che il recente decesso di un'anziana paziente di ortopedia non è da attribuire a responsabilità del reparto. Con l'obiettivo di ricondurre le affermazioni espresse su quel decesso, alla verità dei fatti, i tre commissari contestano le considerazioni non certo lusinghiere formulate dal sindaco della città di Locri Giovanni Calabrese, che come si ricorderà aveva parlato di un evidente caso di omicidio colposo, maturato in un contesto di associazione a delinquere mascherato da incapacità organizzativa e di scarica barile. Accuse gravi e infamanti, secondo i commissari, che oltre a distorcere la percezione da parte della cittadinanza nel valore della sanità pubblica infangono la dignità personale e professionale di quanti lavorano in questo settore con competenza, serietà, dedizione e anche con sacrifici personali. Certo è che simili, irragionevoli ed emotivi interventi appaiono ancora più inopportune e gravi, atteso l'importante ruolo istituzionale dell'autore e aspetto di non secondaria importanza, sono particolarmente dannosi e ostacolano l'azione messa in atto per il conseguimento delle finalità organizzative dei servizi sanitari sul territorio. Dopo aver espresso alla famiglia della defunta, signora Raffaella Moulet, i più sinceri sentimenti di cordoglio per la perdita della propria congiunta, i commissari dell'ASL passano alla ricostruzione di quanto avvenuto. La paziente, scrivono, giungeva la sera del 12 agosto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Locri a causa di una frattura del collo del femore. La signora rimaneva in costante osservazione medica presso l'osservazione breve intensiva del pronto soccorso in attesa di essere trasferita il giorno successivo al reparto di ortopedia vista l'assenza di dirigente medico-ortopedico durante le ore notturne a causa delle gravi condizioni generali di salute. La paziente veniva sottoposta alle idone terapie e quindi ricoverata il 13 agosto in ortopedia. Si precisa che la stessa, in ogni caso, non poteva essere trattata chirurgicamente entro le 48 ore, così come previsto, dalle linee guida ministeriali perché il trattamento con terapia medica antiaggregante prevede la sospensione del farmaco almeno sette giorni prima di qualsiasi procedura chirurgica. La signora, continua, restava pertanto ricoverata e trattata con le terapie previste ma le sue condizioni peggioravano per grave insufficienza respiratoria il pomeriggio dello stesso giorno, tanto da richiedere l'intervento del rianimatore. Nello stesso pomeriggio i parenti chiedevano le dimissioni della paziente che avveniva contro il parere dei sanitari. Certamente è la conclusione, non sfugge a questa commissione, la grave situazione dei reparti nei vari presidi del territorio e in particolare in quello di Locri a causa della consistente carenza di personale medico-sanitario frutto, come noto, dell'assenza potrattasi nel tempo di adeguate politiche di reclutamento, di risorse umane e di efficienti programmi organizzativi interni.